di una contraposizione di vite vissute in modo differente la tipica vita del businessman e la tipica vita della persona che ha poco e mi è piaciuto trasformarlo in un... chiamiamolo in un fanchettino bluseggiante se voleste battere le mani il nostro corso gratuito www.mesmerism.info www.mesmerism.info di un'altra cosa e 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